Salto Iperluce completato. Headshot pronti. Coordinate missione fissate. Destroyer alleato si unisce alla squadra. Schieramento Helldiver. La galassia confide in te per la salvezza. Non lasciare che niente ostacoli la libertà. Le chiedo una sentinella. Destroyer alleato si unisce alla squadra. Schieramento Helldiver. Destroyer alleato si unisce alla squadra. Schieramento Helldiver. Cambio IC. Viaggi minuti alla fine dell'azione. Viaggi minuti alla fine dell'azione. Grazie.